C'è stato un sostanziale abbattimento dei livelli del NOIX, gli ossidi d'azoto, che sono sostanzialmente dovuti alla combustione, qualsiasi fenomeno di combustione. Sono il mancato traffico con le città vuote, meno 45%, e le industrie ferme causa lockdown, meno 27%, il segno della pandemia sulla qualità dell'aria ad Ancona e Falconara a ottobre 2020. I dati emergono in occasione del progetto Sorvegliata Speciale, ovvero l'aria che respirano i marchigiani. I numeri sono il frutto delle rilevazioni dei 30 campionatori nei 17 mesi del progetto, partito a maggio 2019, che si aggiungono alle centraline fisse installate sul territorio. I dati confermano sulle polveri sottili, le PM10, valori omogenei nei due comuni, molto al di sotto delle soglie limite. Rispetto a un limite di legge che prevede 40 microgrammi per metro cubo di polveri sottili, come media annua, abbiamo riscontrato in queste due città la presenza di una media annua di circa 20 microgrammi per metro cubo, quindi circa la metà. Per quanto riguarda le sorgenti di inquinamento, è, contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, la casa, la prima fonte, il traffico tra le ultime. La maggior parte delle polvi derivano dall'iscaldamento domestico, poi abbiamo un risolamento, diciamo, stradale, una combustione industriale e poi c'è il traffico. Allo studio un progetto per caratterizzare il particolato nella stazione di Ancona, Cittadella.